Ok, buonasera a tutti, allora siamo questa sera per parlare del nostro, anzi non è il nostro, del programma Slender Heights che è uno dei programmi più popolari ormai sui social perché se ne parla ovunque, ormai le gocce le conoscono tutte. Però andiamo a capire, questa sera sentirete quattro testimonianze, vi spiegheranno queste ragazze anche qual è la differenza tra uno dei tanti programmi o tanti prodotti in commercio perché ce ne sono veramente tanti e questo programma. Allora, Daniela, buonasera a tutti, per me è un onore questa sera essere qui e stasera scoprirai perché il programma Slender Heights è la soluzione più giusta per le tue esigenze fisiche. Magari vuoi perdere dei chili di troppo che hai accumulato quest'estate, la pancia gonfia, oppure un po' di soffri di ritenzione idrica, hai bisogno di rimodellare il tuo corpo o mantenere il peso che hai perso, bene, hai trovato la soluzione. Intanto mi presento, sono Daniela Marinacci, ho quasi 59 anni e quando ho cominciato questo programma ero quasi 90 chili e sinceramente vivevo malissimo, mi guardavo allo specchio e sentivo che era proprio un'altra persona dentro il mio corpo e quindi ho vissuto molto male, ho provato tante diete, tante soluzioni, ho fatto quello che ho il digiuno intermittente, ho fatto di tutto, ma c'era qualcosa, pur perdendo a volte un po' di peso, c'era qualcosa che non mi piaceva, ovvero io ero sempre triste, anche se avevo questo sorriso, la dieta, il programma che magari andavo a fare non mi soddisfava. E invece incontro questo programma e da subito, sin dalla prima settimana, con questi prodotti che vedete qui appunto su questa immagine, vedendo quella di sinistra mi sento un po' in imbarazzo, ma comunque va bene così perché vi raccontiamo appunto proprio la nostra trasformazione. Ho preso gocce, pur nourish e vinali, le famose vinali, come le famose gocce e sin dalla prima settimana diciamo che mi sono resa conto che questo è il programma per me, mangio meglio, so abbinare i cibi, mangio cinque volte al giorno e mangio anche di più rispetto a prima. Quindi ecco, è un insegnamento a mangiare meglio e quindi vai a migliorare proprio la tua vita e il tuo benessere. Allora, forse chiaramente, come puoi leggere, ti starei anche chiedendo, bah, devo credere a questa persona, forse è meglio la nutrizionista, no? Una dieta classica. Oppure funziona davvero? Oppure non ho tempo per cucinare? Perché a volte noi ci diciamo queste scuse. Magari sarà come gli altri programmi o ancora non ho in questo momento la disponibilità economica per poter affrontare questo programma. Oppure forse non ti guardi e dici, bah, forse non sono così male. Bene, passo la parola a Monica che vi spiegherà altro. Buonasera. Grazie. Allora, vediamo perché... Monica? Io non so quale Monica sei. Perché ne vedo due di Monica. Monica? Monica? Eccola Monica. No, non mi rispondi. La vedo come Monia. Ah, ok, Monia. Monica, ho sbagliato io. Ok, mi sentite? Ok, perfetto, ho sbagliato io a scrivere il tuo nome. Ok, vai. Scusate, ma non riuscivo a disattivare l'audio. Non mi dicevano che non mi permetteva. Scusate. Allora, ciao a tutti. Io sono Monica. Ho 50 anni e un annetto fa mi sono, dopo vari sintattivi di dieta e quant'altro, mi sono imbattuta in questo fantastico e meraviglioso programma e siccome appunto mi avvicinavo diciamo all'età della menopausa, ho pensato, dopo averne provate tutte, non che avessi bisogno di perdere chissà quanto, però il mio punto critico era la pancia. Io questa pancia non l'ho mai accettata, tutte le volte che mi guardavo allo specchio non mi piacevo e di conseguenza ho detto proviamo, ne ho provate tante, proviamo anche questo, perché no? E ho iniziato questo programma con il pacchetto classico, gocce e binali e veramente nel giro di un mesetto, già la prima settimana, già con la settimana depurativa i primissimi risultati e poi nel giro di un mese veramente i risultati importanti diciamo. Io complessivamente ho perso 8 chili, ecco dicevo non è che avessi bisogno di perderti questa cosa, però mi sono rimodellata parecchio che comunque per una donna che si avvicina anche all'età appunto della menopausa direi che è tanta roba. Il nostro programma Slenderize perché funziona? Funziona veramente perché è il programma creato dalla nostra nutrizionista aziendale Barbara Cox che è una delle migliori nutrizioniste americane. Con questo programma riceverai un ebook con delle linee guida da seguire e quindi avrai comunque sempre qualcosa su cui invasarti, imparerai a mangiare in modo sano ed equilibrato e con gusto, quindi ad abbinare soprattutto i cibi in maniera giusta e corretta. Avrai accesso a una community sia di whatsapp sia di facebook per avere quindi un supporto costante e di conseguenza non sarai mai lasciato a te stesso, insomma qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità tu possa avere, avrai comunque sempre qualcuno che ti potrà supportare. Il programma Slenderize funziona davvero anche perché è adatto ad ogni esigenza fisica ed economica e tant'è dimostrato che si possono perdere dai 5,4 ai 6,8 chili in un mese. È adatto a tutti gli sportivi soprattutto perché molti dei nostri integratori vanno proprio a supportare quello che è l'attività sportiva e è adatto anche ai vegani perché i nostri prodotti sono assolutamente gluten free e quindi anche per i ciliaci e per i vegani sono veramente il top. Passo adesso la parola a Luana che vi racconterà la propria storia. Grazie Monica, Luana a voi. Buonasera, mi sentite? Eccoti. Ho avuto un po' di problemi col telefono, scusa. Non è il tizio. Ti presento, buonasera, sono Luana, ho 41 anni, vengo da Salerno, sono mamma di le bellissime bambine Rosselle e Greta, ultima arrivata a dicembre 2022. Inizio questo mio programma post-parto a marzo del 2023 seguita dalla mia attuale app Olga. Cerco come primo ciclo di base Strong, Bucce e Binali proprio perché ero arrivata a pesare 85 kg, cosa che non mi era mai capitata. E seguendo il regime di vita salutare e mangiando correttamente, a luglio sono arrivata a perdere 20 kg. Per poi perderne altri 4 ad agosto, sempre del 2023, integrando altri prodotti. Mi sono trovata benissimo, è un programma che mi ha fatto incastare bene sia fisicamente che mentalmente. E quindi sto continuando i miei cicli, sto portando avanti questo programma. Ora dico, perché scegliere questi prodotti rispetto ad altri prodotti che attualmente ci sono in commercio? In primis perché questi prodotti hanno superato dei test molto molto rigidi. Sono dei prodotti 100% naturali, a basso contenuto glicemico, senza zuccheri aggiunti, zero soia, prettamente fatti di proteine vegetali. E grazie a questa slide sono tutti prodotti approvati dal Ministero della Salute. Quindi di conseguenza sono tutte certificazioni, siamo coperti da queste certificazioni. Ora passo la parola a Monica Dodisco per la sua trasformazione. Monica, ci sei? Io non so quale delle due Moniche è. Eccomi, mi senti Claudia? Sì, ti sento. Ok, ciao a tutti. Sono Monica. Forse la più scettica, sì. Perché io non volevo incominciare questo programma, avevo tante paure, avevo speso tanti soldi facendo altre diete, diete drastiche, non mangiavo. Mi ero chiusa anche in casa perché mi vergognavo, io mi vedevo un sacco di patate. Poi ho conosciuto Olga e con la sua simpatia, la sua dolcezza, ho voluto riprovare e mi sono messa in gioco. Io ho cominciato con Binali e Kulturix, ho 48 anni, sono partita a gennaio del 2023 e ho perso 18 chili. Mi sono trasformata, sono cambiata, mi sento donna, mi sento bella e non mi vergogno più di guardarmi allo specchio. Anzi, ora mi ammiro. Mentre prima no, l'avrei coperto, sono sincera. E quello che voglio dire a tutte le donne è di ricominciare a vivere come ho fatto io e di credere in questo programma come ho fatto io. che ci sono tante persone che ci aiutano, che ci aiutano a mangiare, che ci aiutano anche nei nostri momenti. No, perché io ho pianto, perché io quando ho incominciato a gennaio sono stati i primi 15 giorni che non perdevo assolutamente niente e ho detto, vai, ci risiamo un'altra volta. E invece non è stato così. Non è stato così e in pochissimo tempo ho raggiunto, si può dire, quasi il mio traguardo. Mi sento bene, sono contenta e parlo a tutti, a tutti di questo programma. E lo consiglierei a tutti ad occhi chiusi, senza pensarci due volte. Bene, grazie Monica. Grazie Claudia. E poi c'è anche da dire, tante volte mi chiedono, eh ma questo programma è caro? No, non è caro. Perché si parte da 3,50 euro al giorno, in base al tuo pacchetto che tu scegli, sicché è alla portata di tutti, lo possiamo fare tutti. Poi si spende tanti soldi, se vogliamo tornare belle, un sacrificio in più si può fare tranquillamente. Sicché io sono contenta e quello che posso dire, donne, ritornate, credete in voi stesse, come ho fatto io. E grazie a questo programma e grazie ad Olga, che l'amo tantissimo, perché è eccezionale. Grazie Monica. Io volevo aggiungere infatti una cosa, no? Questi non sono prodotti da banco, da supermercato. No, sono naturali, sono prodotti naturali. Sono coperti appunto da più di 18 certificazioni, ma poi c'è tutto un programma, c'è tutto uno studio dietro questi prodotti, ok? Allora, quando anche a me dicono in chat, no, ma costano troppo, eccetera, ma dipende tu che cosa vuoi, quanta priorità vuoi dare, come diceva Monica, no? Al tuo tornare in forma, ma soprattutto per la salute, in primis. E poi anche per vederti bella, ok? Perché con la salute non si scherza, assolutamente. Noi per prime consumiamo questi prodotti tutti i giorni, perché sappiamo quali sono i benefici che ci possono dare. Quindi dipende da tu da cosa stai cercando. Stai cercando un prodotto che costa poco e che ti illudi che funziona? Non è questo il programma adatto a te, ma sicuramente purtroppo mi dispiace dirti che resterai con questi chili che hai addosso e anzi purtroppo con l'età, con il tempo, purtroppo aumenteranno anche. E appunto molto spesso purtroppo si sottovaluta l'aspetto della salute. Quindi iniziamo a dare veramente priorità al nostro corpo, anche perché ci sono veramente tante soluzioni per tante esigenze fisiche e anche per tante esigenze economiche, come ha detto Monica. Bene, noi abbiamo già terminato, quindi spero che vi siano piaciute queste storie, ma io non ho dubbi perché sono state veramente bravissime tutte e quattro, le ragazze, quindi non vi resta che rivolgervi alla persona che vi ha invitato qui a questo evento questa sera ed iniziare il programma in modo che comunque ci farà piacere condividere e vedere la vostra trasformazione fisica. Grazie a tutti per essere stati qui e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao, 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 ciao.